È una firma importante a sostegno del rilancio della nostra regione, delle imprese, delle famiglie, un istituto di credito importante, è il primo di un lungo percorso che vogliamo aprire con gli istituti di credito interessati a sostenere la nostra economia, che è un'economia che ha sofferto tantissimo, prima per la ricostruzione e poi per, purtroppo, la desertificazione dei istituti di credito tradizionali della nostra regione e non ultimo per la pandemia. È quindi una grande opportunità che speriamo possa essere messa subito in funzione delle nostre imprese e dei nostri territori e spero anche che apra un nuovo modo di pensare e di dialogare con gli istituti di credito.